Pronto? Parla Sombra dei Corvi di Dio. Non so se sei la stessa persona che hai incontrato alla torre. La frequenza è la stessa. Come promesso, ti ho ricontattato. Chiunque tu sia, raggiungi subito la torre. Ce ne andiamo. Ti ho dato un rifugio. Armi, provviste. Ti ho insegnato come sopravvivere. Ti avrebbero ucciso. È così che mi ripaghi. Hai avuto bisogno di me. Ma ora te la puoi cavare per conto tuo, vero? Insegui pure false speranze. Ma ricordati in che condizioni ti ho trovato. Avrei potuto lasciar bruciare il rifugio. Insieme al resto di Londra. Proprio come predisse di... Nessuna gratitudine. La gente come te è solo un ammasso di bambini viziati che sanno solo prendere. Non mi scoprisce che il paese sia andato in manora, sai? Ma non preoccupare. Ride bene che ride ultimo. E sarò io. Pensavo fossimo qui. Mi sono fidato. Ti ho aperto la mia esperienza. E i miei mezzi. Avrei dovuto ucciderti. Vattene dal mio rifugio. Vattene dal mio rifugio. Vattene dal mio rifugio. Vattene dal mio rifugio. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Dai, sbrigati! Dobbiamo andarcene subito! Ho promesso a uno dei sopravvissuti che sarai tornata! Non so se sei tu, ma la frequenza è la stessa! Raggiungi subito la torre, aspetteremo il più possibile! Corri! Forza, non c'è tempo da perdere! Ce ne andiamo! Ti vediamo! Ora sbrigati! Raggiungi Sondra sul tetto! Ti farò luce! Non fermarti e non guardare indietro! Andiamo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.